L'irriverente, con tutto il rispetto, quattro anni di vita politica e amministrativa e erpine regionale raccontati con lo stile incisivo, ironico e irriverente, ma sempre con rispetto appunto, e che mettono a nudo i troppi vizi e le non numerose virtù di una classe dirigente ben lontana dal meritare il paradiso. Ho fatto stampare mille copie di questi due volumi e vorrei poterle vendere tutte, perché il ricavato, l'intero ricavato della vendita, andrà in beneficenza per un bambino ucraino rimasto orfano e che è profugo in Irpinia. Acquistate, ne vale davvero la pena a prescindere dai due volumi. I due volumi possono essere acquistati nel corso degli eventi di presentazione oppure presso la sede di Irpinia TV.